Decisamente elevato al pari con le migliori, attenzione c'è grande emozione al cron italiano, non dovrebbe cambiare molto a livello di classifica generale perché poi si rimarrirà da zero, ma è comunque un punteggio sicuramente molto gratificante per il lavoro svolto dalla tecnico, dalla russa Spilevaia e dal suo supporto a Fano che l'Ali Doliz, abbiamo detto tecnico dell'Aurora, è venuta qui nel clan azzurro. Intanto siamo in attesa di capire la votazione per Letizia Rossi, ricordo che per Arianna Rusca decima per ora non ci sono più problemi per accedere ad una finale, Mentre con un punteggio elevato, se confermato, Letizia Rossi potrebbe entrare anche nella finale di specialità. Sta per concludere la prova Giulia Raschina, lo fa in questo istante l'atleta della Bielorussia, ma teniamo con una grande trepidazione che la giuria sblocchi quel provvisore che appare accanto alla valutazione per Letizia Rossi. Grazie a tutti.